Fare squadra e costruire una rete forte con un unico obiettivo, portare in alto sempre di più il nome dell'Abruzzo, una regione che vanta un immenso patrimonio enogastronomico. Nasce così la nuova Guida di Qualità Abruzzo, il consorzio di artigiani del gusto, costituito con lo scopo di promuovere il territorio regionale attraverso una proposta enogastronomica di assoluta eccellenza, il presidente Marcello Spadone. Io ci tenevo molto a questa guida proprio perché è la prima guida di Qualità Abruzzo che riunisce produttori, ristoratori e quest'anno anche le pizzerie perché abbiamo inserito le migliori pizzerie abruzzesi. Questa è una guida proprio totalmente abruzzese, anche gli sponsor, così come i partner, che sono piccoli produttori. Abbiamo fatto questa sinergia proprio per dare una scossa a questa regione, proprio facciamo vedere questa unione tra ristoratori e produttori. Sono piccole aziende agricole che producono salumi, produttori di miele, produttori di formaggi, di cereali, aziende vinicole e ristoratori e pizzerie. L'obiettivo di questa guida qual è? Ma è proprio unire la ristorazione al mondo agricolo, anche perché noi lo manipoliamo tutti i giorni. Avere vicino i produttori per noi è una cosa molto importante.